Finisce in parità con un rotondo 2-2 la sfida tra Rosetana e Casalincontrada, un pari che serve solo a muovere la deficitaria classifica dei due team. Assoluto protagonista è il direttore di gara, Fabrizio Malandra di Avezzano, che alla fine scontenterà tutti. La vena non delle migliori del fischietto marsicano la si capisce da subito. La gara inizia inspiegabilmente con 15 minuti di ritardo. Malandra, quest'anno prima della sfida del Fonte dell'Olmo, aveva diretto una sola partita in eccellenza, l'anticipo dell'ottava giornata a Miternina-Casteldisangro. Anche quella sfida la fece iniziare con 15 minuti di ritardo, ma in quel caso il ritardo fu giustificato da una protesta inscenata dai Sangrini. Che ci sia un fuso orario diverso nella Marsica? Nei primi episodi della sfida già montano le prime proteste. Nono minuto, fallo subito dagli ospiti. Malandra indica immediatamente il dischetto. Il giudice di linea richiama la sua attenzione. Malandra cambia idea, punizione dal limite per gli ospiti. Quindicesimo, la Rosettana passa tra le proteste ospiti. Battista va al tiro dalla destra. Malandra fischia. Pompei si ferma, palla in rete. Malandra convalida. Rivediamo il tutto con il sonoro originale. La prima parte di gara offre pochi spunti. Un'azione degna di nota giunge solo al quarantatresimo. Concursione dalla distanza di Battista. Pompei respinge. Recupera Fattoruso, ma viene fischiato l'offside. L'avvio di ripresa segna il sorpasso ospite. Dopo soli 29 secondi, indecisione tra Di Marco e Merletti. Ne approfitta Montanaro, che impatta. Passano solo tre minuti e gli ospiti raddoppiano tra le proteste locali. Montanaro si invola. È offside? Battista chiude su di lui. Per Malandra il rigore. Il bomber Antignani trasforma con freddezza. La Rosettana si buttina avanti alla ricerca del pari. Dodicesimo, corner di Campanile. Colpo di testa di Di Marco. Palla fuori. Quattordicesimo, ancora proteste locali. Fattoruso chiede la massima punizione. Nulla da fare. Al diciottesimo si rivedono gli ospiti. Concursione dalla distanza di Antignani. Merletti para in due tempi. Poi arriva il meritato pari locale. Ventiquattresimo. Bordata di Campanile dalla distanza. Palla deviata. Sfera in fondo al sacco. L'ultima conclusione della sfida è di marca ospite. Ventisettesimo. Montanari va al tiro. Merletti si fa trovare pronto. Poi tutti negli spogliatoi. Nel post-gara le dichiarazioni più pesanti sono quelle del presidente Rosettano Iachini. È un risultato che penalizza tutte e due le squadre. Da un arbitraggio decisamente, come dire, non mi viene il termine. Direi quasi infantile. Sia da parte dell'arbitro che da parte dei guardialegni. Punizioni non fischiate. Punizioni date. Ammunizioni assurde. Rigore dato e rigore non dato. Fischio o non fischio. Obiettivamente non lo so. Questi errori si ripetono domenicalmente. Io non accuso mai gli arbitri perché sono stato un arbitro. Però a questo punto oggi si mette un riparo oppure qualcuno qua bisogna mettergli paura. In modo che quando arrivano dentro questo stadio che sembra un porto di mare si cominciano a fare la cacca sotto. Si cominciano. Perché così, in questa maniera, non va bene più. In quel caso c'è stato un fischio. Il nostro portiere era fermo. Non gli ha permesso di parare ma ha concesso volentieri. Lì siamo stati veramente bravi perché ci siamo rialzati. Siamo rientrati nel secondo tempo. Abbiamo pareggiato. Addirittura siamo passati in vantaggio. Poi con questo autogol abbiamo preso il pareggio. Ma sinceramente non ho notato parate del nostro portiere. Per completezza di analisi vogliamo parlare anche del rigore realizzato poi da Antignani. Lì ci sono state proteste della Rosetana per un presunto fuorigioco. A me non risulta. Anzi, io direi che in occasione del rigore ho notato il fallo di mano. E non c'è stata la seconda munizione che portava all'espulsione al 4 a Battisti. Sinceramente non l'ho visto. Può darsi pure che le immagini mi chiariranno l'evento. Però la munizione era dovuta. Si è affischiato il rigore. Grazie. Grazie.